a caccia a salvare le tartarughine vieni piccolo vieni mi ha preso un'altra via andiamo al mare questa stava sfinitissima tante Claudio è pieno qui vieni prendiamole con qualcosa aiutami poverina piccolina ti aiuta papino ti aiuta papino andiamo al mare vedi se ce ne sono altre non so io ne ho preso tre tu? se ce ne sono altre via non capiamo una bacinella o qualcosa con un po' d'acqua ma che bello che emozione che emozione ma hai detto lì no ritorniamoci queste sono proprio belle cagliarde ma perché queste fai? per l'altra sembrava semi tramortita queste sono belle arzille si si guarda guarda che sensazione meravigliosa con l'ambertura così c'è con tutti buone su buone madonna ma se stanno arrambiti addosso ti giuro aspetta eccole le bimbe si è appena diventato papà buono che c'ho paura a fargli male andiamo quando cazzo è lontano questo mare per noi mi immagino queste sono tre bispiste allora una più bispa l'altra è più tranquilla allora quando ormai ci muovi scampo bagnata ormai è nata allora lasciamo? pronto? ho giocato i grassi lascia no rovesciate ma che è tu? ma adesso controlliamo guarda chi stanno? non mi guarda perché faccio a trovare i rovesciati qui ci stanno in canchi che gli vanno subito addosso io seguo questa questa è mia e intanto ormai so fragile dai dai piccola vai vabbè la mia non si muove la mia ma aspetta si muove un po' si muove guarda questa guarda questa guarda questa grande piva si 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 muove si muove si muove si muove si vede che ha sentito l'acqua il rumore dell'acqua guarda i grandi che l'hanno giocco cazzo 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 ho fatto ma perché va perso qua? ho fatto non lo vuoi stare? guarda qui questa va perso qua non c'è perso ma perché? ma perché non vanno mamma mia non vanno in acqua ma che spettacolo ma guarda vanno via dall'acqua io oh che spettacolo vogliono riandare dentro guarda voglio andare ahah ahahah vede eh si è andato accompagnata e vi vedevo si spostavano qua ah è vero con la pisa l'hanno giunta l'hanno messa in proprio eh mi entrava ad andare Grazie a tutti